e io ho 34 anni, e in due maggio sono grandi. Ho fatto tre anni a guerra, e poi sono un'occhiale per la presa fronte e poi ci sono state in guerra, 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 sono state 36 mesi in guerra, sono state in specialista, io ero la scola Caccia, i piloti per andare in guerra, ci sono 36 mesi. Lavoro, a Cerma io specialista, ho i temi a mettere fuori la pareccia, tra i metri 30, gli altri fai qualche ripresi in Cina, fai qualcosa di così. Sono stati, dove ci sono 10 giorni, ci sono 3 mesi a Udine, e qui c'era sempre di guarire. Per la questa guerra, con la questa guerra, ho avuto la cartolina di via. Ci sono 10 giorni, ci sono 10 giorni, avevano fatto tutto. Quando ci sono 10 giorni, gli amministi, ci sono fatti da due anni, guarda che non è d'occupare, c'è della morte. Io ho chiesto per prima, io sono niente col, ci sono fai. Dopo ho trovato un cavallo, ho partito a piedi, poi ho arrivato a Cattolique, ho partito a piedi, ho paura, perché ieri tedeschi, le tappi, avevo una valigina, le tappi, e non c'è nessuno. Sono buon carichiere, sono arriva, sono arriva che sono vele, sono arriva, delle le loro mesti dice, e non le loro mesti può partecipare. Sono parte di oggi e la sera alla sera a d'ordine della mancara, sono arriva alla mattina. Ora ora sono state prima perché sono state prima in del primo un altro che non c'è, non voglio essere prima. Di prima sono state nelle scuole due tre perché si sa come sarà, come sarà, non sono state nelle scuole, quindi come se mette cammache e non si vedete poi sono portati in via il cammino. Dopo lì arriva pronta, passi tedesco. Non dopo lì passi, sono così tempo. Dopo lì passi un'amma chiesa, che le stessi più brutte, che ci sono i soldati. E adesso stai, i maciap che portiamo io all'Europa, quando vende via il bestia, ho dormito fuori, chi mi cercava. Un'altra, ho cerchito la chiesa, e mi sono chiesa, che mi cercava me. Adesso arriva la coscienza, e mi sono chiesa, non so salvare, che le vi piatti le donne. Anche i ci sono le cose, e io ho cerchito, e io ho cerchito le persone, le cose che si è arrivata, che mi sta andando fino a noi. E dopo dopo lì, lì c'è un'amma chiesa, la portata stava, e in l'asso delimento, io scopo i chiari, e lui scopo i giocatori. E io scopo i giocatori, e io scopo i giocatori. E io scopo i giocatori, non ci sono i figli, i figli, e i figli di fuori tutti. E io scopo i tramezzo, e io scopo i giocatori. E io scopo i giocatori, e chiede la rifi che io passo e ne trovo e poi dopo io sono da casa, non sono per stare posto, io arrivo in casa, io lì sono, avevo in casa, ma ne avevo due volte in giro e mi portavo perché mi feo la caccia, vedo un pibliaccio qua. Ma dopo io sono a servizio, io mi dico che non aveva da provare nessuno che io portavo per il bestia quella volta, io non avevo portato il bestia, allora io c'era in pittezza loro, ti dico che è un permessino che loro non lasciano stare. I tedeschi toglielo il bestia e poi toglielo e portali via, a me avevano un po' il bestia e a me mi aveva mandato nessuno che si era occupato a dire, a si era occupato a questi tedeschi, gli è andato al bestia che stava di contadino e poi aveva già condusli da chi voleva loro, allora bisogna andare da chi ci voleva loro. A dimostrare i tedeschi, perché noi siamo andati a fare fronte e si scappero i tedeschi, a scendere via chi era i tedeschi e poi c'erano lì chi era l'inglese, noi siamo andati e abbiamo fatto rifugio e lasciato giù la grotta, 6.9 a 10 minuti dopo non scappero perché non ci passavo, ma non ci sono bombardate e allora mi hanno fatto rifugio e lasciato da qualche minuto, 6.9 a 10 minuti, dopo non scappero e non scappero, perché io scappero con le ripi e non vieni. Alla ho fatto qualche settimana prima, ma anche più, ma ecco che mi hanno fatto, mi hanno fatto anche più e ora mi sono più lungo, mi hanno fatto 15 minuti nel rifugio, Sono raggiunto, ma levo da i treggi. Se non trevi, non è che uscite la bocca, ma levo da i treggi. Se c'è una bomba uscite buzza, che non mi sposte da scopo, a dormire, dormire, dopo ci scopo tutta, perché, come diceva, avuta la granata, era da besta, che gli amici truffo, se lì, se prendo la granata, te metti lori, li scopo tutti i scopo, allora ci scopo tutti, perché, ci metti pericolano. Da vede lì, io ne pensavo, a ci metto, ma ci metto, io sono rileva, faccia fronte, ma ci metto. Ma ci metto, se stai dopo la sua, a una casa, che mi contadina, se stai qualcun'altro, dormire, in fondo, e se stai diversamente, dopo, i tedeschi, andrì a fuga, non stai la massa, perché, noi stiamo fronte, che passiamo, io ho la prescia, e qui, io riconome che sova, e non poteva sparare, io passavo la sua, i muriati, lì riconome, erano due, che non riusci, perché, io sparato la foglia, ma dopo, io ne ho sparato poco, perché, io avevo prescia, e lì, abbandonato tutto. E qui, e qui, qui bombardavano, che venivano, e venivano, sui carri armati, su una strada, e da giovani, gli sparavano, e qui bombardavano, io ero carri armati, che ero fermati su una strada, che ero, spazio, nel quarecchio. Ma sbaglio, l'ultimo, mi ero detto, che ero, che ero, che ero, che ero, che ero, che ero fermati su una strada, e si era per io tutti quelli, io avevo detto, che ero, mi hanno fatto indirizzo, gli era per io, gli chiedono una semplice rifugio là, e dopo, ero qui, i giorni, poi c'è la roba dentro, ero, ero qui, ero, ero qui, ero un'antica, gli stessi, non venivano mai, le erano volte una volta, come le spassero le ponte, le erano più, le erano volte le ponte, le erano i miei punti, la mia parte, i miei punti, e venivano tutti i die, ma lui avevano sempre le fortuna, e poi, E' venuta una volta e diceva, che paura, andai là, e gli diceva, io questa, questa, l'andai, come l'andai non lo so più. Perché qui al chiesa gli erano tutti abbandonati, perché noi se li vedi, le mette su un caffè, la chiesa n'era finissuta. I tedeschi scappi erano inglesi, i cavalli, e tutto di noi, ma n'era finissuta. E si scappia, che lì ciò, gli sparavano come era, gli spazzavano tutti, e non si scappia, perché a fronte le passano andavanti, e noi andavamo tutto a quattro, ma siamo a Sarmadog, ci sono tutti, non so. Poi siamo a Sarmadog, un po', e poi è profonda la pace, e poi torna qui, insomma, io ero inglese, ma giochiamo cinque vande per tutti, insomma, gli stagli erano cinque vande dentro, insomma, noi, all'inizio, insomma, io ero una gente dentro. Invece, stavamo anche gli tedeschi, il tedeschi è a posto di mare, perché noi mi hanno fatto dare l'oltre poste, perché mi doveva dire, ho dormito fuori, ho dormito, un po' l'oltre, avrei a scoprire il tetto, ieri a fuori sono diseguiti un buce, poi ho aperto il tetto, ho dormito, ho dormito un po', ieri, ho dormito un po', ieri, ho dormito quattro volte in giro. L'oltre ho dormito, tramite un flume là, tramite un freddo video, la mattina, ho sentito la scarpucità, io passi di tedeschi, ma io non ho trovato il chile, io passi con un sotere, io passi via, e io passi, e io cambia poste, e io ho fatto i dati. Quando io sparaivo, guardiamo in fatto fuori, ma dopo quando io sparaivo, ci ho dimetrito. No, io ero su una strada, che l'arrivo il caromè, perché le bambini erano pari diritti, si era fermi sulla strada. Io scappi in mezzo a che, ma io scappi via, perché l'era il tedesco, io entrava l'oltre, e non scappi nulla. Io ero bastigliano, io ero tutta la famiglia, io ero mio marito, le avevo da fioli le giovani, ha dormito tutto il segno, e tutta la grotta. che mora l'arrivo. E io mi sento, io ero, ma prima stavano bene. Gli raffaiono le giovani, gli ero un po' del». Poi abbiamo parlato, gli ero sottopoli, i gli ero sottopoli, e gli ero garanti, gli ero spiegati. Noi passiamo alla madre, non è successo, non la stai bene, i tedeschi avvavano la presa, passano giurta, non è stata mai stata, passano a presa, adesso la prima volta non volevo parlare. Do che passa è che non si fanno i punti, hanno fatto i punti, non si fanno i punti, non si fanno i punti, non si fanno i punti, non ho fatto i punti, non ho fatto i punti, ma doveva fare i punti. Il ponte da Stradicchina, due o tre anni, non avevo d'ora, perché avevo preso la carne. Il tè, non avevo l'appartore. Dopo veniva in chiesa, ma era famiglia. Non avevamo nessuno. La cantina aveva un buggino che aveva sentito, che aveva venuto a parlare di sclerosù. E' un po' di tigre, perché erano in posta massa. In questo anno, come chiesa, avevo qualche granata, e come chiesa, ero cazzo, 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 cazzo. Qualche granata, come noi, avevo in cazzo, e come chiesa, chi li ha distretti, li ha distretti. E' un po' di cazzo, 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 cazzo. Non ho mai avuto, che mi sono fatica, mi sono Tupi, un mazza giallo, il mest tales, un mazza giallo. Et dall'altro, quando mi mancava, avevo la hamagnazione, e avevo fatto la hamagnazione a lavorare, e avevo fatto una frazione, e avevo fatto una hamagnazione, dove avevo fatto un paio, e avevo l'amagnamento che avevo fatto qua. E avevo fatto un paio, a dove avevo fatto il paio, Ascettamente la pinza generale. Quindi, tutte le primi erano i piedi. Sono veloce che mi sono venuta e che mi stavamo andando a trovare, ancora ci sono i piedi al portaricchio, in te, blando al cavallo. Quando ero all'Ajovia, io vi abbiamo la rinforzata, e io mi prendo un po' con il mio strano per fare la sveglia, e poi ho preso questo cuore. E poi mi viene la rinforzata, io ti la rinforzata cosa mi è la rinforzata, e poi ci ho preso, e non ho preso questo cuore. Giundi durante le portiere confession southern quel profondio a partblico, poi erano Reda. Acab 저는 in hiccion sono benissime. Tive Probably esplendiable, per questo che si sa attraverso. Quando required storm, prende! L'ho dita la incomincia che manccia noi miыватьia e come dire i comunia. E poi alla incomincia di sheep wede. miiria parad爸爸, col nun e ehco. qui nella zona di Caccioichia, per il passaggio di fronte. Il bombardeo era lì poco lì fuori, la morte si è presa di fronte. E uno è morto qui, che doveva mettere il rifugio, mi veniva tornato a vendere la roba. Mordì qui nella zona di Caccioichia, la mia zona. Qui c'era il bombardamento. Questi morti qui li stessi, doveva fare il bombardamento. Non c'era la guerra, le morti c'è chi scappava per il suo affare, e mi colpite. Per là le scambette di rifugio, mi aveva usato una storia, mi aveva dato la sua casa, e mi aveva dato la sua casa, mi aveva dato la sua casa, mi aveva dato la sua casa, ma non si poteva, non si poteva, non si poteva.